Si completa la passala acqua spedizioni per l'edizione 2017-2018. Arriva infatti da Lucca Maria Miccoli che insieme a Andur, Hemby e Alessandra Formica ultima e completa il reparto delle lunghe a disposizione del coach Gianni Recupido. Ecco dunque completata la compagine per la prossima stagione. Di origini triestine, di soli 22 anni, Miccoli nell'ultima stagione ha giocato una media di 8,3 minuti a partita con una media di 2,4 punti e 1,6 rimbalzi. Significativo infatti il suo intervento nella prima sfida playoff contro Broni dove nelle due partite è stata impegnata per un totale di 27 minuti mettendo a segno ben 15 punti. Sarà un anno intenso, ha commentato la neogiocatrice di Ragusa che ha anche dichiarato che sicuramente si metterà molto alla prova ma come sempre proverà a dare il massimo. Vivo l'entusiasmo in quanto la giocatrice è in fermento e pronta ad iniziare a lavorare con le nuove compagne e di fatti molto soddisfatta della sua scelta. Adesso non resta che godersi l'estate in vista della preparazione precampionato che prenderà il via giorno 23 agosto.